un'avventura se possiamo decidere di comprare una testa si può fare no, no, non salto in lungo però, oh, oh, aspetta no, 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 sono morto, sono morto non sei morto ma sei un cogliato allora aspetta, salto in lungo, salto in lungo non mi uccidere, non mi uccidere non mi uccidere, devo curarmi un attimo ok ah, vieni qua un attimo, vieni qua un attimo no, non vuoi la visuale dice un oggetto, ma non mi importa ci ho fatto, ho finito la zona, vero? no, non ho passato non ci sono più quei titi? noi saremmo un paio più avanti per un paio di tempo e quarto e allora perché sono venuto qui? ci vorremmo ancora un po' ma perché è scomparso una delle mie tre rianimazioni? perché è quella che ottieni solo quando ti riposi dici così? che poi, no, potevi dire che c'era un fallo a due passi l'avresti scoperto lo stesso? tu mi hai solo detto eh, devi fare la zona con quei pezzi di merda e io, no e tu? mi hai detto minimamente che ma se corri come un coglione arrivi subito a un fallo l'oggetto è importante ahia, puttano pensavo che mi dicevi no, non ci sono oggetti importanti in seguito non mi ricordo come funzionano questi tipi oh, ma sei scena vabbè senti pure ahia ma sei scemo usare qualcosa bla 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 solo che so che posso evitare di tutti come una merda se ci riesco ma non mi consiglio di passarlo comunque sì, ma il problema è che non sono questi che mi riguardano cosa hai detto? come ho detto se non faccio vada la mia mossa non c'è perché eh oh farei una merda vabbè meglio di prima due solchi pezzi due solchi pezzi due solchi pezzi non c'è ma non farò un fallo non posso? non puoi e che cazzo devo fare? devo fare di qua sì meno male che io sono un videogiocatore mi guardo sempre attorno adesso puoi beh hai capito? ah era quello il rampino? sì, era qui era lì il rampino era lì se togli quei pezzi di merda il monte congo è bello da vedere adesso siamo dove eravamo prima ma c'è una boss fight o comunque ci sono dei nemici quindi vado di qua e poi la boss fight sarà qui ah è qua ok scendo prima qui perché io posso però non so per che motivo lo sto facendo lì cosa c'è? mamma mia sono un pro io sono due cazzo vado vado di sotto ovviamente che volte l'hai vista l'esposizione di caparti sotto di te? sotto di me? quattro volte allora fermo sì al sinistro del tuo personaggio mio dio però lo capisci che sono poco evidenziate vero? a parte il frame rate che mi ha detto no e l'hai visto cazzo io ho spammato perché sotto non c'è niente qua posso fare destra a sinistra oh no come farò a sopravvivere a quel nemico mortale mio dio pensavo di essermi buttato di sotto oh solo il bimbo è qui lo devo dare al grassone io ho un bimbo cresciuto come farò? è vero però aspetta potevo recuperare vita se non ammetti e adesso posso tornare sull'altro lato cosa faccio? continuo a salire guarda se ti buttavi ma là sei senti io ti do grazie sia quello che volevo fare e questo è lo shortcut sono alfa lover no 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 sono alfa là questo è il bimbo della campagna ma sono stato due secondi fa che problemi hai? ah guarda tu non capivi dove cazzo eri ma non di qua ok 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 ho capito ho capito quindi lì c'è il falo altro ok ok si ho Gesù raccoglierò prima l'oggetto meno importante e poi quello importante questo lo devo ah ne ho due teoria ne servono tre di ognuno devo parlare col fabbro con scina e poi con quella là con chi? quella là esatto e adesso dove si va? questa è la vostra che scegli in che modo? se vuoi fai torno al falò e oh chi se ne frega sai che torno al falò mi sa se cadevo comunque una delle cose che no mi sono sognato un oggetto una delle cose che preferisco tipo di Sekiro a parte il sistema di combattimento e il sistema di movimento lo dico io che mi butto di sotto ogni due per tre dove si va? dove si va? me lo torna là? lo so ah è quello che abbiamo preso prima giusto? e adesso devo prendere l'altra strada no perché tu andando sulla sinistra buttandvi subito sotto non hai preso l'altro oggetto importante che era salendo invece che scendendo potrei dire